Per idea Contro RL è meglio red ovviamente E anche contro Ecco Anche contro Camilla Infatti blu è cringino qua Cioè serve meglio red però Uh quello è Mysterious il mio amico Però volevo giocare blu quindi proviamo e basta Caffè mi serve Esatto Jim esatto Fiora Ah non le piace il matchup forse Oh ma io questo me lo ricordo Questo è ieri inventato i games on Vania Lo ricordo era io onesto cesso Maledetto infame che mi è inventato la partita No l'odio 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 Vabbè magari oggi c'è new day new life 100 LP al giorno Ricordiamoci del traguardo dell'obiettivo Chi parla insieme è delusional Io infatti Ah ho rimesso la chat ma devo mutare i player Per guidarli Ma vogliamo fare livello 1 Andiamo a invadere livello 1 actually Tiriamo un flippino Tiriamo la monetina Let's go level 1 Ma che era quell'esplosione Hello bondi 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 Ho le mani fredde che cazzo Ciao Frank E basta Cioè sono stufevere le mani fredde Allora Allora non ho strattato il blu L'abbiamo visti Io mi sono scammato questo Non sono stato spottato credo Quindi dopo di questo Andrei straight Al mio raptor Camp Voglio smitare questo Domanda Oh sì Speravo di prendere Un flash In realtà Non la kill ma speravo nel flash Però l'importante per me Su questo gank Non era fare la kill Ma prendere l'esperienza Per fare il livello 3 Dalla wave Mannaggia Zwei però Che cacchio Ce l'abbiamo visto L'abbiamo Non posso nemmeno trattare con i Rayleigh Mi distrugge Che rogna Che rogna Tutti in scimmio mid laner Come la vexty prima Harry Vabbè magari si rifà come lei Oh magari no Mi sto prendendo stack Sono contento molto Fuck Vabbè hanno ancora entrambi il flash Cioè Seriamente entrambi Hanno ancora il flash E la Vabbè che fa Vabbè che spari mind Scema Vabbè Flash Flash Normale la bot Ci regala un'emozione Una gioia Qualcosa Ok Ok Io ho ancora il red up Tra l'altro Non ho preso l'assist Kind of sad Onestamente Le ho strabetati io però Non siamo riusciti a portarci a casa l'assist Devo gankare bot Devo assolutamente gankare bot Ignorare mid Che Dire che una patata è poco Si sente il nerf ai soldi alla jungle Ma credo siano stati buffati i soldi in giungla O sbaglio Non hanno aumentato i soldi che danno i campi A discapito dei yearly jungler Ganker O le esperie Non ho capito Non lo son sognato Però non ho letto bene la patch Non c'è come Non c'è come Penso io è il ghost Un po' distratto il signor Ecco qui Voleva recollare Ora dobbiamo scappare Let's get Let's get The fuck out Of here Siamo ok Ok Impossibile utilizzare il cervello Vabbè Ma perché non c'è L'abbiamo visto i rally Che Vabbè I guess Devo due bot Lo vinciamo Vabbè Resettiamo che Ecco è da queste parti Ah E che tanto non sapevo Cioè Capito No bro Mi stavo Basta perdere tempo Non potevo andare Invadere la jungle Di eco Sicuramente Però potevo farmare Prima queste recollare E andare topside Vuoi fare il drago Eh Avendo perso tutto Sto tempo bot Magari prenderci un draghetto Può essere una play Vai Ok ok Così almeno Un po' Rimediamo al fatto Di aver perso Un sacco di tempo Inutilmente Ok Campetto Plirato No Andalo portare Dal sapling Io non spreco Vabbè Ultimo camp Recollo Ti prego Resti in vita No L'isci è morto Ho pure sprecato il flash Le ho pure portate In a via jungle Della gedia Che è impingato Sicuramente colpa mia Sicuramente colpa mia Qui ragazzi Che noia Ha perso la jungle Per colpa di Camilla Uffa Questo game Mi sa che devo fare Eclissi Mi sa che devo fare Eclissi Blue cane Non prowler Purtroppo No Non devi ricollare Qui Stupida Zoe Not sure About this one Ah non l'hai data di slow Che peccato Vabbè Non abbiamo Ah però la wave Non l'avete riuscito A tenere ferma Fuck No no Ma ok Ma ok Ma ok Ma ok Ma ok Ma ok Dobbiamo andare lì Dobbiamo andare lì È un'occasione d'oro questa Gli avversari stanno grifando Vi dico stanno grifando Gli avversari Gli avversari Peccato non deve morire Zoe Abbiamo sbloccato la forma Comunque siamo contenti di questo trade È un 3x3 O sbaglio? Poteva penso essere leggermente meglio Ma vabbè Siamo comunque presi le salmade Siamo presi un botto di roba Poi io tra due minuti ho la forma E sono contento Il problema è Relia Di data perché la nostra Zwerly Game è stata cringe a morire Effetto di Relia non è esattamente un campione gestibile Vediamo Oiei oiei Bene Questa è kill Chi ora fa 2v1 top? I don't know Fare di no Comunque a me sono tutto il target sbagliato Sono Magari effettivamente vincevo il Db1 Vabbè no perché potevo ultare e prendere tempo Però insomma Non era così facile Io purtroppo il problema è che non ho ancora stato cacchio di fare Mi aspetterò un minutino Non che sia tardissimo eh Però Prima è meglio ovviamente Grazie Gix Meno male Meno male Minz the world Grazie grazie Allora 40 secondi L'era al mid Non ci interessa Non cade niente Allora stanno facendo il drago attualmente O gancando botto e poi facendo il drago No no questo Questo lo divapiamo guys Questo lo divapiamo Safe che sblocca la forma E vediamo di cambiare la partita ora Andiamo in un'altra direzione Alla fine mi sono fidato giocando Cioè Senza forma Questa in realtà è un problema enorme Ghost blue cane Devo dire piuttosto rapido Piuttosto rapido E vediamo in un'altra direzione Allora Yeah Andiamo in un'altra direzione Oh no Oh no 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 Grazie a tutti La ulti è un po' too much Purtroppo perdiamo la torre mid Almeno vedo che hanno shoddano a Tirelia Ah questa col di continuare sulla side mi piace Nice abbiamo preso un bel value Alla prossima Double kill presa Flash di zona E io devo sicuramente recollare Mettlero due campetti rimasti up E poi recollo Poi giochiamo per Erald Draghi in 1 minuto e 30 Il link redaction contro di loro serve Serve Morello su Mokai Serve per forza Altrimenti è unfucking playable Scusate si è suicidata Mamma che cringe Ma non ha solo sprecato Flash Meno male Alla fine è suicidata Niente Non ce l'ha fatta Non trollarla Difficile da carriare queste vestioline Mokai è mezzo inter La zoe fa schifo Qualcosa ci inventeremo Draghi inventi Staccando la mura mala Tanto il drago ci arriva in tempo Niente Tanto il drago ci va a fare Che mi ha voltato Che mi ha voltato Bene In qualche modo siamo riusciti a girare il fight Anche se eravamo non numbered Ma in che senso l'ha preso a Zoe? Perché la bubble applica extra damage E quindi la kill diventa sua Beard E quindi Se non volevamo si giocare qua Potevamo andare a difendere top almeno E io comunque vi ho ricollare Camilla scelta opinabile Quella di devare Con le mani gelate cacchio Non sto riuscendo a giocare bene Cioè sto giocando bene ma Se avessi le mani calde sarebbe meglio Però mi ha ucciso 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 What the actual fuck Mamma mia Mamma mia Stop trolling You killed me Mamma mia Non devi flammare però Che cazzo Cioè abbiamo appena regalato il barone Cioè abbiamo regalato il comeback Agli avversari No non l'ho vista Entrato a far parte del club Cioè abbiamo appena regalato il barone Cioè ha Vocale Do you Con In 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Era di là. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Il pollicione. Grazie a tutti. 55 gold all'item. Forse qui c'è... Possiamo siggiare o devo recollare. Colt in tasca li ho. Baran in 50. Ulti in 20. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Niente, non ce l'hanno fatto. Sono sfidati. Abbiamo un po' rischiato qua. Facciamo la verità. Abbiamo un po' rischiato, però... mille azione continua. 5k. Secco recall. Facciamo baran. Andiamo a chiudere. Molto indici sull'item. Molto indici sull'item. Abbiamo le wave. Oh, io, 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 che cane. Che cane. GG. Add carry life, I guess. GG, GG, GG. Anche questo direi uno V9 secco, no? Ho già dato una mano, però mi ha anche trollato l'avvertione. Mi ha fatto dare shutdown a mille agli avversari. Ok, ok. Devo morti in 3 game. Non male, non male oggi per ora. Ho le mani fredde ancora, pensa. Ho le mani fredde. Onore a... Ho lui, ho lei. Lei però mi ha ucciso. Quindi no. Estimulso bad, OMG. Ma come ti permetti? Le... Eh, perché onorano Ginn! Cioè... 16 mila danni ha fatto Ginn! Che cazzo onorati Ginn! Ma scusami, ma che partita hanno visto i miei alleati? Cioè, ero da solo contro tutti. E i miei alleati... Boh! Onora Ginn! Cioè, io potevo onorare Ginn, no? Gli altri. Ma cosa guardano questi? Scusami. Cioè, ho fatto letteralmente. Uno V9. Legit, uno V9 da solo. Onorano gli altri. Nemmeno uno onoror! Cioè... Nemmeno uno? Nemmeno... Nemmeno uno? Dio boh... Meno male c'era Ginn! Guarda, sì. Meno male, meno male.